Il ciclista abruzzese della Nazionale Paralimpica Pierpaolo Addesi sta per partire per Tokyo per partecipare ai giochi olimpici. Sarà questa la sua quarta Olimpiade dopo quelle di Pechino, Londra e Rio. Addesi questa mattina ha incontrato i giornalisti a Pescara per presentare la sua nuova avventura olimpica. L'obiettivo è quello di riportare a casa l'ennesima medaglia. Sicuramente ancora c'è qualcosa da mettere a puntino a livello di preparazione. Ci sono ancora circa 15 giorni prima della partenza perché adesso andrò in ritiro con la Nazionale in Abruzzo a Rovere vicino Rocca di Mezzo. Però diciamo che il grosso è fatto quindi adesso ci sta solo da mettere a puntino un po' la condizione e basta. Io sono sempre quello che pensa al futuro quindi Parigi è vicino quindi penso che non mi fermo qui. L'Italia vuole sempre essere protagonista. Dopo quello che c'è stato con le Olimpiadi penso che dobbiamo cercare di tenere alta la sticella. Sicuramente faremo bene, ci sono tante discipline oltre al ciclismo che possono fare molto bene in primis il nuoto. E noi siamo una squadra un po' più ridotta quest'anno perché i posti sono stati veramente pochi però comunque molto competitivi. Per Aspera d'Astra, attraverso le asperità si arriva alle stelle. Questo vale ancora maggiormente per le Paralimpiadi. Per Paola Desi è una manifestazione calzante e plastica di questo mondo, di questo spirito che viene interpretato in particolar modo nel mondo paralimpico. Noi tifiamo tutti per lui, per quello che farà, per quello che ha già fatto, per quello che farà e per la capacità che avrà di portare alto il nome dell'Italia e del nostro Abruzzo. Quindi lui è orgoglioso di questo, noi siamo orgogliosi di lui.